Si chiama Angelo Camerlenghi, eccolo qua, del OGS di Trieste. OGS, voi lo sapete, non è un supermercato, ma è l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Ecco, ah così? Sei arrivato con quella roba lì. Sì, non l'hai comprata sul mercato quella roba lì. Vabbè, comunque io vorrei raccontarvi chi è meglio, ma il suo curriculum è solo in inglese e visto che io sono socio dell'Accademia dei Licei, cioè di quelli che hanno fatto inglese solo al liceo e non lo sanno tanto bene, ho capito che insomma ha preso la laurea con l'Ode a Milano, Master of Science nel Texas, ha collaborato con l'Università di Barcellona, infatti c'è un pezzo anche in catalano che ho capito ancora meno, e insomma va bene, si occupa di sedimenti marini, nelle regioni polari, clima, eccetera, eccetera, e ha deciso di presentare... Cos'è? Sale. Adesso ve lo presento. Ecco, io mi metto in disparte, fai pure... Posso andare? Prego, abbiamo scoperto che il geologo è uno che porta i pesi. Allora, bene, Patrizio come chairman, signore e signori vi presento 285 metri cubi di acqua marina del Mediterraneo del Miocene, 5 milioni e mezzo di anni fa. ovviamente non c'è più l'acqua, c'è solo il sale che si era sciolto nell'acqua. L'hai fatta bollire molto... Sì, adesso arrivo. Mediamente ci sono 35 grammi di sale in ogni litro di acqua marina, questi sono 10 chili di sale, il conto presto fatto, la cubatura. 285 metri cubi sono il volume di un appartamento di 100 metri quadrati, quindi molto volume concentrato qui dentro. Questo blocco ci viene... Ci è stato dato espressamente per questo evento, adesso vi faccio vedere, dalla società che coltiva, gestisce le miniere di Sicilia di sale, il sale di Sicilia, questo sale di Sicilia del Mediterraneo del Miocene. Volevo dirvi, quando facciamo un gesto molto semplice che ripetiamo quasi quotidianamente, una manciata di sale, una pentola d'acqua bollente, come diceva Patrizio, pensiamo che prima della rivoluzione industriale qualsiasi essere vivente sulla terra, almeno nella nostra parte del mondo, sarebbe inorridito, vedendo tanto spreco di un minerale tanto prezioso. Sappiamo che il sale per tutte le civiltà, anche antiche, anche i cinesi, rappresentava la sopravvivenza, la vita per la sua capacità di conservare il cibo, poi è diventato anche fonte di prosperità, ricchezza, potere, guerre. I Celti, che pescavano il merluzzo nell'Atlantico del Nord, ci sono fatti mezzo Europa a piedi per scoprire le miniere di sale di Salisburgo in Austria e garantire quindi la salatura del loro merluzzo. Poi piano piano l'importanza sociale del sale è diminuita perché è arrivata la scatoletta nell'Ottocento con la rivoluzione industriale, appunto, poi il frigorifero e adesso questo sale, probabilmente essendo impuro, lo buttiamo sulle strade per evitare che ghiaccino. Quindi le cose sono cambiate molto. Adesso volevo dirvi che anni fa, quando ho preso un master in inglese in oceanografia geologica, degli amici mi hanno chiesto a cena, ma perché l'acqua marina è salata? Veramente te l'hanno chiesto? Me l'hanno chiesto. Guarda che ci vuole del coraggio, io volevo chiederglielo, ma non avrei mai avuto questa spudoratezza. Quindi è una domanda pertinente. Sì, io non ci avevo mai pensato, ma loro mi hanno fatto pensare, io con la mia arroganza di neodiplomato non ho saputo rispondere, lo dico veramente. È molto difficile dare una risposta precisa, convincente, scientifica ad una domanda tanto semplice. I primi geologi del Medioevo, parliamo quindi qualche secolo fa, tardo Medioevo, addirittura avevano pensato che il mare fosse salato perché uno strato di sale come questo, che conoscevano esistere nelle miniere, esistesse al fondo del mare e quindi diffondesse gli ioni per diffusione nell'acqua. Ovviamente nulla di più falso, però il sale in fondo al mare in realtà esiste. Adesso ne parleremo. Vi dico però che l'acqua marina è salata per una complessa serie di reazioni biologiche, chimiche, fisiche. Dovete pensare che nell'acqua marina ci sono organismi anche microscopici, il plankton, che sottrae il sale dall'acqua, lo fissa negli scheletri, lo deposita sul fondo, dagli entri in soluzione, le dorsali mediooceaniche sono piene di sistemi cosiddetti idrotermali, cioè fuoriuscite d'acqua calda che portano metalli e sali. Con la circolazione oceanica tutto si omogeneizza in una soluzione che io, e qui voglio dire che la scienza e il mistero vanno d'accordo, definisco questa soluzione, l'acqua marina, misteriosa perché questi elementi, cloro, sodio, magnesio, l'ione solfato, il calcio e il potassio, sono sei, sono la stragrande maggioranza dei sali disciolti in acqua. La loro relazione quantità relativa è costante ovunque, in Antartide, in Artico, all'Equatore, nel Mediterraneo, a 3000 metri di profondità in superficie. Basta misurare il cloro, che è più facilmente misurabile con uno strumento, e si calcolano aritmeticamente tutti gli altri. Nessuno sa perché, però è una legge perfetta, si chiama principio di Marseille. Allora, torniamo al sale in fondo al mare. Il sale in fondo al mare si deposita, quindi questa roccia, si deposita ogni volta che nasce un oceano. Un oceano nasce per rottura di un continente, sotto il magma, nel mantello spinge, il continente si alza, si inarca, si frattura, si forma una rift valley, termine che probabilmente conoscete. Inizialmente si riempie d'acqua dolce, il lago Tanganyika, per esempio, è un esempio della rift valley dell'Africa orientale. Poi, sprofondando, la rift valley viene invasa dall'acqua marina, inizialmente non c'è circolazione, evapora più acqua di quanto ne entra, si deposita il sale per saturazione dell'acqua. In questo modo si formano i cosiddetti salt giants o giganti salini, che sono enormi depositi rocciosi di sale sparsi per il mondo che alimentano l'uso industriale che facciamo adesso del sale. E sono di varie epoche geologiche. Ogni proto-oceano ha generato il suo gigante salino. Se vedete la macchia gialla, là, quello è il gigante salino del Mediterraneo, che è un'anomalia, perché si è formato non all'inizio della storia di un oceano, ma alla fine. Gli oceani nascono, vivono, muoiono, perché i continenti poi si richiudono, e il Mediterraneo è uno di questi. L'oceano gigantesco, che si chiamava Tetide, è ormai chiuso, schiacciato tra Africa, Arabia e continente asiatico, rimane un lembo che comunica con l'oceano globale solo attraverso Gibilterra. Cinque milioni di anni fa questo collegamento si è interrotto. Adesso, tuttora, evapora più acqua dal Mediterraneo di quanto ne entra dai fiumi, quindi il livello è andato giù, di 1500 metri, è cominciato a precipitare il sale con un ordine ben preciso, prima i carbonati, poi i gessi, poi il salgemma, cioè questo e poi altri sali minori. E adesso abbiamo un milione, un milione di chilometri cubi di sale al fondo del Mediterraneo, con spessori fino a tre chilometri, separato dall'acqua marina da un sottile strato di sabbia argilla. Sabbia argilla portato dai fiumi e dalle correnti, dopo che, diciamo, dopo circa mezzo milioni di anni, il mar Mediterraneo ha di nuovo invaso con una catastrofica alluvione che i modelli recenti dicono sia avvenuta in circa 200 giorni. Pensate, in 200 giorni l'acqua che deve entrare da Gibilterra per portare il Mediterraneo su di 1500 metri. Questo pare che sia successo, non abbiamo la testimonianza diretta, ma abbiamo le prove dei modelli. Quindi, detto questo, il sale al fondo del mare è il relitto di un mare incontaminato, prima di tutto perché è antico, ha prodotto delle rocce colorate, bianche, sapete, ormai ci trovano i negozi gialle, no, gialle non credo, rosa, rosse, verdi, c'è anche del sale nero in commercio. Vi invito, invito tutti, a pensare la storia affascinante della terra, di questa nostra bella terra, ogni volta che macinate un po' di sale sul vostro piatto di insalata. Ebbene, bravissimo, mi hai rapito e coinvolto, però ho delle domande da fare, se posso, in rappresentanza della parte ignorante della platea, lo so che quella colta ha capito tutto. A me vengono dei dubbi. Allora, intervistando una volta Cino Ricci, il famoso skipper di Azzurra, gli ho fatto una domanda banalissima, gli ho chiesto, Cino, ma tu che hai girato il mondo, ma dimmi la differenza tra il Mediterraneo, l'oceano Pacifico, l'oceano Atlantico. Lui mi ha guardato con sguardo romagnolo e mi ha detto, è uguale, in che senso è uguale? È sempre la stessa acqua che gira. Allora, qui, mi hai parlato del famoso principio di Marseille, aveva ragione Cino Ricci, cioè è sempre più o meno la stessa acqua. L'acqua può essere più o meno salata, nel Mediterraneo è molto salata, se uno va in Antartida è meno salata. Ma allora, il fatto che sia più o meno salata, cosa comporta? Tu hai parlato di questa, diciamo, copertina di sabbia che copre questo enorme deposito di sale nel Mediterraneo. Se per un maremoto, terremoto, la copertina di sabbia fosse in qualche modo sconvolta e questo sale si mescolasse all'acqua del mare, cosa salta fuori? In realtà succede. Questo sale che sembra rigido, solido, in realtà fluisce come il ghiaccio, è un solido che si comporta come un fluido quando sottoposto a uno sforzo. Quindi spesso incomincia a venire su, letteralmente rompe le rocce sovrastanti e arriva al fondo del mare o all'aria, se è fuori dal mare. Quando succede in fondo al mare si scioglie perché è solubile nell'acqua marina e comincia a rilasciare i sali che aveva sequestrato dal proto-oceano, li rilascia nuovamente. Solo che queste salamoie che si formano fluiscono come fiumi sottomarini in conche, valli e li rimangono. Non provocano, diciamo, disastri all'ecosistema. Perché io, per esempio, negli Emirati Arabi Uniti sono andato e usano un sacco d'acqua potabile e dolce, che naturalmente non hanno, la dessalinano dal mare. Solo che per dessalinizzare un metro cubo d'acqua ce ne vogliono dieci, nove, dieci d'acqua di mare, il sale poi lo ributtano in mare e hanno salato, che sembra l'acqua della pasta, adesso il mare lì attorno. Normalmente quando uno, questi filtri, perché il processo avviene per iperfiltrazione, in genere si puliscono sbattendoli a terra, non in mare. Quindi basterebbe non lavare i filtri in mare e il problema sarebbe risolto. Ecco, vedi che il geologo ne ha una per tutte le situazioni. Dovresti andargielo a dire. Va bene, ringrazio Angelo Camerlenghi dell'OGS di Trieste. Grazie. 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 Grazie.